Cinefolie, frutto della volontà e intraprendenza di una giovane appassionata della settima arte, offre ai cinefili il meglio del collezionismo illustrato cinematografico, proponendo una vasta gamma di articoli per tutti i gusti, locandina, poster che rievocano mitiche pellicole entrate nella storia del grande schermo, manifesti che ripercorrono intere filmografie, perle quali colazioni da Tiffany, Scarface, Lolita, passando per capolavori italiani di ieri e di oggi. Altro fiore all'occhiello le storiche riviste di un tempo, originali, ottimamente conservate, tasselli di un grande viaggio nei ricordi da sfogliare e ammirare. Cinefolie propone anche un vasto assortimento di magliette e un'estesa bibliografia da cineteca, enciclopedie, dizionari, monografie, biografie. Il negozio ti aspetta in via Rossini 24 a Torino. Visita anche il sito web www.cinefolie.com. Potrai visionare riviste, manifesti, foto, ogni genere di articoli, libri, brochure, cartoline, cineromanzi. La consultazione può essere effettuata attraverso l'immediata e intuitiva ricerca libera, selezionando il genere o specificando tag, come ad esempio attori, attrici, registi o argomento trattato, accedendo così a una lunghissima e ricca lista illustrata. Selezioniamo ad esempio il genere Commedia. Accederai all'elenco degli articoli presenti nell'archivio di Cinefolie riferito al genere selezionato. Navigando fra i risultati, scegli l'articolo di tuo interesse. Cliccando su Dettagli potrai avere accesso ai dati tecnici dell'articolo. Con tanto di prezzo, descrizione, tipo di edizione e stato di conservazione, che potrai verificare ingrandendo l'immagine, svelandone i particolari. Le pagine sono davvero complete e riportano dati precisi e aggiornati, risultato di un accurato e puntuale processo d'archiviazione studiato per ottenere la massima soddisfazione del cliente più esigente. A questo punto non ti resta che ordinare l'articolo e riceverlo comodamente a casa. Vieni a trovarci! Cinefolie di Francesca Delizia in via Rossini 24 a Torino.